Ciao raga, benvenuti nella parte 3 Facciamo le missioni insieme E ovviamente cosa facciamo? Facciamo le missioni insieme Cioè Il titolo spiega tutto Uh, GG Raga, lì c'è gente che insegue gente 2 hit ed è morto raga Va raga, provarci non fa mai male Colo mio Fuck I kill one I have 4 kill Addio Raga, mi servono strutture nemiche Cosa sono amiche? Strutture nemiche mi servono Ci sono solo strutture amiche Queste dimmi che sono nemiche Che gli faccio danno Oh Distruggiamole No, queste sono amiche Allora Un'arma è silenziata raga Strautile per la missione Ok raga In teoria Ok con armi silenziate Una l'ho fatta Ah 3 Proprio Mi posso tenere anche la stessa arma Bene, in effetti è difficile Però me la sono fatta Dai GG per questa kill Raga Una kill con l'arma silenziata mi serve Sììììììììììì Un'altra E ho finito la missione Mi sa che ci sarà anche la parte 5 Questo che sarà difficile Raga spero di no Che non ci saranno altre parti Ma mi sa che almeno una parte 4 ci vuole Mi serve la tua kill con la pistoletta silenziata tizio Mi serve la tua kill Ragazzi Vabbè ho finito due missioni C'è due che mi danno due livelli Quindi magari sblocco il balletto Andiamo a Pinnacoli Scala nemica, sì Raga Le ho danneggiate, sì L'importante è quello Vabbè raga Parte